Quasi due anni fa, nel luglio del 2016, avevano ingerito per sbaglio soda caustica contenuta in una bottiglia di plastica, riportando ustioni gravissime all'esofago. Ma ora, grazie ad un innovativo intervento eseguito a Torino, due fratellini di 4 e 5 anni possono tornare ad alimentarsi normalmente, con un'aspettativa di vita uguale a quella dei loro coetanei. Direi che stanno bene, nel senso che hanno potuto riprendere un'alimentazione per bocca, con cibi solidi, tant'è vero che ieri sono riusciti anche a mangiarsi un bel uovo di Pasqua e di cioccolato, tutti e due. I medici hanno rimosso l'esofago bruciato dalla soda caustica, portando lo stomaco all'altezza del collo, al posto dello stesso esofago. Si è trattato di un intervento molto delicato, raramente eseguito su bambini. Hanno la delicatezza delle strutture, hanno il fatto che l'infiammazione, che si verifica in questi casi, a causa proprio dell'agente corrosivo, coinvolge anche le strutture vitali intorno all'esofago, in particolare la trachea, i bronchi e la orta toracica. L'ingestione di soda caustica ha conseguenze molto gravi. I due bimbi sono stati alimentati per diverso tempo con sondini. I medici consigliano alcune precauzioni. L'ingestione di caustici purtroppo è un incidente spesso domestico, può succedere al soggetto adulto, ma succede anche a bambini. Direi che due sono le precauzioni. Non travasarli mai in altri tipi di contenitori che potrebbero fargli sembrare delle bevande comuni. E seconda cosa, tenerli comunque in una posizione alta, possibilmente dentro un armadietto, in modo tale che i bambini non possano accedervi.